La crisi energetica spinge i comuni a ridurre i servizi dopo l'illuminazione e anche la polizia locale. Il caso di Prata di Pordenone, dove il sindaco ha dimezzato le ore di servizio dei vigili, lanci tanti municipi in queste condizioni. Si offre di accompagnare la dipendente a casa, in realtà la sequestra e fugge in auto. In seguito dalla polizia in A4, un 39enne è stato bloccato, arrestato. La ragazza, una 18enne, ha chiesto aiuto a un'amica con WhatsApp. Un finto corriere si è presentato in un'occhioleria di Pavia di Udine, caricando e facendo sparire montature destinate a Parigi per 100.000 euro. L'azienda se ne accorge solo dopo tre giorni, ha denunciato tutto ai carabinieri. Presentata oggi l'edizione 2022 di Gusti di Frontiera, appuntamento Gorizia da giovedì 27 settembre a domenica 2 ottobre, 300 gli stand e 40 i paesi rappresentati in questo mappamondo dei sapori. La ciclista friulana Elena Cecchini ha vinto l'argento nella prova a squadre miste, a cronometro e mondiali in Australia. Le papà Luca, l'aspettiamo per fare festa. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Contro il caro energia, i comuni stanno correndo ai ripari, ciascuno con ricciate diverse, ma tagliando alcune voci di spesa per non trovarsi con le casse vuote. A Prata di Pordenone, a causa dei rincari delle bollette, saranno quasi dimezzate le ore di servizio della Polizia Locale, che passano da 72 a 45. Il sindacato per questo chiede un incontro urgente al sindaco. I rincari energetici si fanno sentire anche nell'erogazione di servizi da parte delle amministrazioni comunali. È il caso di Prata di Pordenone, dove con una delibera di giunta, il sindaco Cattia Cescon ha deciso di limitare l'illuminazione pubblica nelle ore notturne e limitare l'orario di servizio della Polizia Locale, con gli agenti che, presumibilmente a partire dal mese prossimo, ridurranno le ore di servizio da 72 a 45. Verranno quindi ristabiliti gli orari fissati il 2 luglio, in modo da ridurre i consumi della sede di piazza Wanda Meier. Il problema, però, come denuncia il sindacato, è che ad oggi gli agenti della Polizia Locale di Prata non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito al cambio di orario. Sarà proprio la riduzione dell'orario di presenza fisica degli agenti in ufficio e in conseguenza sul territorio comunale, che farà risparmiare energia elettrica. La decisione di contenere i costi nella sede di piazza Meier è stata decisa dopo l'ultima bolletta energetica arrivata in comune. Nello stesso edificio, però, oltre all'ufficio della Polizia Locale, ha sede l'associazione CTG Kennedy, impegnata nella realizzazione di numerose mostre durante l'anno. Mentre il segretario del sindacato Cisale, Riccardo Robotti, ha chiesto un incontro urgente al sindaco, segretario comunale e comandante di Vigili, un agente della Polizia Locale, che ha chiesto di rimanere nell'anonimato, ha fatto sapere, interpretando il pensiero di alcuni colleghi, di essere dispiaciuti per non essere stati chiamati in causa direttamente. Saremo stati, come sempre, vista l'attuale situazione di bisogno, sostiene, disponibili ad una soluzione corale. La riduzione di orario, il venir meno della turnazione, comporta automaticamente una riduzione del servizio di vigilanza, a vantaggio della comunità, in netto contrasto con i programmi dell'amministrazione in carica. E nella stessa situazione di Prata, di Pordenone, ci sono anche altri comuni. La crisi porta a ridurre i servizi, ha spiegato il presidente regionale del Lanci, Dorino Favot, e per questo, alla fine, a pagare. Sono sempre i cittadini. La crisi energetica sta, diciamo così, incidendo moltissimo su quella che è la capacità di spesa dei singoli comuni, a livello di bilancio, tant'è che quest'anno, addirittura, con una legge nazionale, è stato autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per spese che in realtà sono spese correnti. Quello che succede nei comuni è che, da un lato, si cerca di risparmiare in tutte le maniere, come quella che ha detto lei, piuttosto che, magari, spegnendo la pubblica illuminazione, oppure abbassando quando sarà il momento il numero dei gradi di riscaldamento o innalzando in caso di condizionamento e via discorrendo. Però è anche vero che queste, diciamo così, azioni diventano insufficienti nel momento in cui la bolletta schizza, comincia ad aumentare del 50%, del 100% e quindi la difficoltà si nota in maniera palpabile un po' da per tutti i comuni. E alla fine è sempre determinato un danno per i cittadini, perché vengono a mancare dei servizi? Purtroppo sì, perché d'altronde l'alternativa per ciascuna amministrazione è quella di decidere se mantenere lo stesso livello di servizi e quindi chiedere eventualmente, non quest'anno, ma al prossimo qualcosa in più a livello di tariffe, di tasse, tributi ai cittadini, ma cosa che nessuno vuole fare ovviamente, oppure cercare di andare a ridurre dei servizi. Anche il comune di Gonars ha deciso di ridurre gli orari dell'illuminazione pubblica, riferirlo è stato il sindaco Ivan Boemo, che ha annunciato sui social come il suo comune anticiperà di due ore la chiusura dell'illuminazione pubblica, che generalmente si spegne poco dopo l'alba, considerando che tecnicamente al momento non c'è la possibilità di spegnere l'illuminazione alternata in tutte le vie, ha spiegato il sindaco. Abbiamo pensato di anticipare di due ore la chiusura dei lampioni la mattina presto. Questa soluzione, ha sottolineato Boemo, permetterà di non creare grossi disagi alla cittadinanza e al traffico e considerà comunque di ridurre le spese di circa il 20%. Caro bollette a scuola, l'ente di decentramento regionale di Udine effettuerà sopralluoghi in tutti gli istituti della provincia di Udine per verificare quali interventi pianificare per il risparmio energetico. Nessuna misura generalizzata, ma azioni sartoriali sulle scuole dove comunque durante l'inverno il termometro si assesterà sui 19 gradi centigradi. Ne abbiamo parlato con il presidente provinciale di Udine dell'Associazione Nazionale Presidi, Paolo De Nardo. Ci si interroga all'interno degli istituti su che cosa fare per risparmiare laddove è possibile. Che cosa succederà durante l'inverno? Dovremmo adottare delle misure di contenimento dell'energia e questa è una responsabilità che abbiamo sia come dipendenti pubblici sia come singoli cittadini. Quindi una delle misure che assolutamente sarà adottata è quella dell'abbassamento della temperatura media a 19 gradi. Altre misure saranno studiate scuola per scuola. Abbiamo avuto un incontro circa una settimana fa con l'ente di decentramento regionale della provincia di Udine, il quale ha preannunciato una serie di sopralluoghi in ogni scuola dove verranno adottate delle misure ad hoc a seconda delle caratteristiche dell'edificio e anche della collocazione dell'edificio perché le misure devono essere diversificate e personalizzate. Non possiamo pensare che le stesse misure che si adottano in una località vicino al mare possano essere le stesse che si adottano in una località di montagna. Visite, viaggi di istruzione. Alcuni in particolare hanno dei costi che in questo momento dobbiamo valutare perché l'aumento del costo dei carburanti e delle strutture alberghiere inciderà anche su questo versante. Per cui ci stiamo informando sulla percentuale di aumento di queste spese proprio per mettere le famiglie nelle condizioni di poter far partecipare i loro ragazzi serenamente. Paolo De Nardo sarà uno dei protagonisti della puntata di questa sera di Eletroshock in onda su Telefriuli alle 21. Tracceremo un primo bilancio dell'anno scolastico a due settimane dall'avvio delle lezioni, diversi temi sul tappeto, ritorno della normalità post-covid, dal caro bollette, dalle carenze di personale fino alle nuove fragilità che stanno emergendo tra adolescenti e pre-adolescenti. Stop ai seggi elettorali nelle scuole. Lo chiede con forza il coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto che ha inviato una lettera alle istituzioni della regione chiedendo soluzioni alternative. I seggi elettorali allestiti nelle scuole tornano a far discutere e sulle barricate finiscono genitori, presidi, insegnanti e studenti che attraverso il coordinamento dei presidenti di consiglio d'istituto del Friuli Venezia Giulia dicono stop alle urne in classe. Tra palestre, biblioteche, bocciodromi e altri spazi pubblici le soluzioni per trovare destinazioni differenti non mancherebbero e nel periodo covid erano anche state sperimentate in alcuni comuni delle regioni con buoni risultati. Voi però l'inattesa caduta del governo Draghi, le vacanze estive e il poco tempo a disposizione per preparare le elezioni del 25 settembre quasi nessuna amministrazione in Friuli Venezia Giulia ha previsto di allestire urne e cabine elettorali in luoghi alternativi. Dopo il periodo pandemico la scelta appare sempre più anacronistica non solo per questioni sanitarie, come sottolinea il coordinamento che ha inviato una lettera al presidente della regione Fedriga, all'assessore Roslaine, alla commissione del Cal e ai prefetti di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone chiedendo lo stop ai seggi nelle scuole sottolineando come la scelta poteva essere differente soprattutto in considerazione delle già troppe sospensioni scolastiche subite in questi ultimi due anni. Secondo il coordinamento, l'interruzione didattica delle eminenti elezioni politiche poteva essere un danno evitabile una presa di posizione che non cambierà la situazione attuale ma che rimarca l'importanza di trovare altre soluzioni per il futuro. Delitto di Codroipo oggi è stato effettuato un nuovo sopralluogo in casa di Elisabetta Molaro uccisa dal marito il 15 giugno l'abitazione è stata passata al setaccio per verificare la confessione dell'uomo. Omicidio di Codroipo si cercano nuovi elementi per verificare la confessione dell'assassino in particolare la dinamica del delitto. Un nuovo sopralluogo è stato effettuato questa mattina nell'abitazione di Elisabetta Molaro la donna di 40 anni madre di due bambine uccisa dal marito il 44enne Paolo Castellani il 15 giugno scorso con 57 coltellate. Nella villetta di Via delle Acace è entrato il medico legale Lorenzo Desinan che già aveva effettuato l'autopsia sul corpo della donna accompagnato dall'esperto di scena del crimine e di Sanxon e dalla criminologa Linda Pontoni consulenti di parte civile. Abbiamo esaminato la camera da letto l'atrio che porta le camere la camera del marito dove sono state trovate le due bambine il bagno, la cucina e un po' tutto quello che è il contesto interessato dalle tracce ematiche che erano evidenti. L'esigenza di passare nuovamente al setaccio la casa di Elisabetta era maturato dopo l'esame autoptico sull'esito del sopralluogo le bocche degli inquirenti restano cucite. Per le conclusioni bisognerà attendere qualche idea è maturata qualche riferimento l'abbiamo trovato e quindi sarà oggetto di una relazione al pubblico ministero. Si offre di accompagnare la collega a casa la sequestra e fugge in autostrada in manette un 39enne che da tempo insisteva per far nascere una relazione con la donna sequestrata decisiva la chiamata d'aiuto di un'amica. Fa salire in macchina una dipendente con la scusa di portarla a casa ma al contrario imbocca l'autostrada e fugge verso Trieste. È successo nella notte tra venerdì e sabato il protagonista è stato un cittadino del Bangladesh di 39 anni. L'uomo ha convinto una sua collaboratrice serba di appena 18 anni a salire in auto con lui con la scusa di portarla a casa l'Ignano Pineta. La donna nonostante già da tempo fosse nel mirino dell'uomo che addirittura le aveva offerto del denaro per prestazioni che lei aveva sempre rifiutato si è fidata ed è salita in auto con lui. Solo che il 39enne non si è diretto verso l'Ignano Pineta ed incurante delle suppliche della giovane ha girato l'auto e ha imboccato l'autostrada in direzione Trieste. A quel punto la diciottenne ha mandato furtivamente un messaggio ad un'amica chiedendo aiuto e quest'ultima ha allertato le forze dell'ordine che hanno individuato l'auto bloccandola lungo l'autostrada. Prima che scattassero le manette all'uomo è stato sequestrato il cellulare in cui sono stati trovati sms e messaggi di carattere morboso inviati di continuo alla giovane. Il 39enne ora si trova in carcere a Udine in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Truffa da 100.000 euro per un'occhialeria di Pavia di Udine. Un finto corriere ha caricato e fatto sparire 1.800 paia di lenti e montature. L'azienda si accorta del raggiro solo dopo tre giorni. Indagano i carabinieri. La merce, quattro bancali di occhiali freschi di fabbrica destinati a una fiera di settore a Parigi era pronta e così quando venerdì è arrivato il corriere a ritirarla non ci sono state esitazioni da parte del personale dell'azienda Area 98 che ha sede a Pavia di Udine e il magazzino a Santa Maria la Longa. Nessun dubbio, nonostante il furgone troppo piccolo, abbia caricato solo metà dei bancali assicurando che sarebbe poi passato un collega per il resto. Così, quando il secondo corriere, quello giusto, è arrivato e sono stati presi in carico gli altri due bancali, nulla è apparso strano. La verità però è emersa tre giorni dopo, lunedì, quando chi si doveva occupare del trasporto si è trovato con un carico dimezzato chiedendo spiegazioni. A quel punto l'azienda ha capito di essere stata truffata da un finto corriere che è fuggito con 1.800 paia di occhiali per un valore di oltre 100.000 euro. Troppo tardi per porre rimedio, Area 98 ha denunciato tutto ai carabinieri che ora stanno provando a risalire agli autori del furto. Una truffa ben architettata, una vera montatura per restare in tema di occhiali, andata a buon fine. Un raggiro simile era accaduto a fine luglio a Udine quando un'azienda tessile era stata gabbata con un carico da 40.000 euro di vestiti. Ecco perché le forze dell'ordine raccomandano di fare molta attenzione prima di affidare la merce ai corrieri verificando nel dettaglio la loro affidabilità. Un transessuale brasiliano è stato arrestato a Udine dopo un taccheggio in un negozio cinese accusato di aver picchiato un marocchino che lo aveva inseguito e bloccato. Rubo in un negozio cinese due magliette poi sferro un pugno al marocchino che l'ha inseguito e bloccato. Per questi motivi un trans brasiliano di 29 anni senza fissa dimora è stato arrestato dagli agenti della squadra a volante della questura di Udine. Il fatto risale la serata di domenica scorsa quando il 29enne è entrato in un negozio di vestiti di via Quileia e ha nascosto nella borsetta due magliette da donna del valore di 28 euro. Quando è uscito però è scattato il sistema di taccheggio e il sudamericano è stato inseguito dal proprietario cinese e da un cliente marocchino che aveva assistito alla scena. Una volta bloccato il trans ha sferato un pugno al volto del nordafricano procurandogli contusioni guaribili in otto giorni. L'arresto è stato convalidato stamani dal jeep di Udine Emanuele Lazzaro che ha disposto la scarcerazione del brasiliano. Sono stati sorpresi alla guida di due auto di lusso a noleggio una Mercedes e una Jaguar che non avevano mai pagato. Così due stranieri che di lì a poco avrebbero passato il confine di Stato sono stati fermati e denunciati per ricettazione e due veicoli fermati dalla polizia stradale di Amaro e Palmanova sequestrati. Volevano fuggire all'estero con due auto di lusso prese a noleggio e mai pagate. In due sono finiti nei guai. Nei giorni scorsi la polizia stradale delle sottosezioni di Amaro e Palmanova insospettita dal fatto che alla guida di due potenti autovetture una Jaguar F-Type e una Mercedes GLC ci fossero due conducenti stranieri non residenti in Italia che avevano esibito un contratto di noleggio apparentemente non regolare ha avviato alcuni accertamenti. Gli agenti hanno scoperto che i veicoli erano oggetto di ricerca per reato di appropriazione in debita. Le due macchine erano state concesse in locazione a chi non aveva poi onorato il pagamento delle rate omettendone anche la restituzione alla società di noleggio. Il controllo e le successive verifiche hanno perciò permesso di recuperare i due mezzi che si stanno dirigendo verso il confine di Stato per poi far perdere le loro tracce. Nei confronti di due conducenti è scattata la denuncia per ricettazione e le due autovetture di alta gamma del valore di 80-100 mila euro sono state sequestrate. Eccesso di velocità mancato utilizzo delle cinture e utilizzo dei cellulari alla guida sono le tre contravenzioni più comuni a dirlo e il bilancio della Polizia Stradale. Quasi 60 patenti ritirate al mese una marea di punti decurtati ben 36.028 frutto di 10.930 violazioni di cui 4.800 a carico dei conducenti dei mezzi pesanti. I numeri quanto mai quest'anno danno l'idea della mole del lavoro da parte della Polizia Stradale del Friuli Venezagiula nei primi nove mesi dell'anno. Un bilancio che coincide con la celebrazione della campagna Road Pole Safety Days la settimana europea dedicata alla sicurezza stradale che vuole sensibilizzare la popolazione sugli incidenti con l'obiettivo di ridurre i morti sulle strade. Un impegno costante è quello del corpo di polizia con 6.765 pattuglie impiegate 13.530 operatori su strada. Tra le contravizioni maggiormente rilevate dalla polizia c'è l'eccesso di velocità con 2.030 sanzioni seguito a sorpresa dal mancato utilizzo delle cinture 1.747 e al terzo posto l'utilizzo dei cellulari alla guida 911 multe. C'è poi un altro dato importante la scarsa manutenzione delle auto così 490 guidatori sono stati pizzicati nei primi 9 mesi con gli pneumatici usurati o peggio ancora lesionati 190 per mancata revisione in autostrada. Altra piaga le violazioni a carico dei mezzi pesanti spesso con targa straniera ben 4.800 contravvenzioni per irregolarità nei tempi di guida per inefficienze meccaniche e velocità. Complessivamente nei primi 9 mesi sono state denunciate 268 persone 16 agli arresti 17 ai furti di gasolio dai mezzi pesanti. E di sicurezza sulle strade se ne parlerà a screenshot a partire dalle 19.45 con Davide Vicedomeni in studio ci sarà il comandante della polizia stradale del Friuli Venezia Giulia Paolo Di Domenico che analizzerà i dati delle contravenzioni e illustrerà l'attività preventiva. Questa mattina attorno alle 10 un uomo di 51 anni ha accusato un malore all'interno di un'azienda in comune di Varmo ha perso conoscenza ed è in pericolo di vita guidati dall'operatore della Sores i colleghi hanno attivato tutte le operazioni di primo soccorso tramite la mappatura dei defibrillatori la Sores ha indicato la presenza di un dispositivo in una vicina azienda che è stato immediatamente recuperato nel frattempo sono arrivate sul posto un'autombulanza un'automedica l'uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine numeri più che positivi per il mercato del lavoro in Aflui Venezia Giulia con i contratti a tempo indeterminato da record ma resta l'allerta per la situazione economica legata al post pandemia e la crisi energetica se non fosse per l'incognita legata a inflazione e cara energia l'economia del friuli Venezia Giulia viaggerebbe a vele spiegate i confortanti dati sull'export e un'occupazione ai massimi livelli vengono però messi in ombra da un futuro pieno di incertezze le assunzioni stanno segnando record continuo indicando un livello elevato di domanda di lavoro nel periodo gennaio luglio di quest'anno si rilevano oltre 157.000 assunzioni più 19,5% rispetto al 2021 di cui 16.400 a tempo indeterminato alcuni segnali di un rallentamento emergono dai dati delle assunzioni di luglio 2022 con una crescita dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e le ore di cassa integrazione che a luglio crescono su base congiunturale a oltre un milione di ore a giugno erano quasi 270.000 a fare una sintesi è l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro secondo il responsabile Carlo Scorbino che cita anche un recente studio Ox occorre evitare toni trionfalistici dice visto i segnali di rallentamento nel clima di fiducia delle imprese dovuto ai costi insostenibili dell'energia il territorio regionale tuttavia avanti Corvino ha dimostrato di avere una struttura produttiva solida una buona capacità di reazione all'avversità e un mercato del lavoro dinamico sostenuto negli ultimi anni da un'evoluzione in senso positivo del sistema regionale delle politiche del lavoro industriali insomma non è più solo una questione di quantità di occupazione ma della sua qualità dai salari che devono essere adeguati all'orario fino al benessere dei lavoratori temi sui quali andrebbe fatto di più La PMP di Coseano presto metterà in funzione un maxi impianto fotovoltaico capace di coprire da solo circa un terzo del fabbisogno energetico dell'azienda oggi l'assessore all'energia Fabio Scocci Marro ha visitato lo stabilimento insieme al presidente Luigi No Pozzo Un megawatt di potenza nell'impianto già in funzione ed altri 3,5 per quelli che saranno costruiti La PMP di Coseano ha messo in cantiere un maxi progetto per la costruzione di una serie di impianti fotovoltaici sui tetti dei cappannoni dell'azienda in modo da produrre energia green senza consumo di suolo e testimonianza dell'aspetto positivo della scelta è stata la visita oggi dell'assessore regionale all'ambiente e all'energia Fabio Scocci Marro che insieme al presidente e fondatore dell'azienda Luigi No Pozzo ha visitato gli impianti di Coseano uno degli otto stabilimenti nel mondo del PMP Group che ora conta 1100 dipendenti per 150 milioni di fatturato in base al nostro fabbisogno ha spiegato Pozzo la fluttuazione del costo energetico incide per l'8% del fatturato determinando così la nostra competitività il nostro obiettivo ha concluso il presidente è raggiungere il 50% dei consumi da fonti rinnovabili l'azienda ha messo sul tavolo un piano di investimenti da 82 milioni di euro in 5 anni che porteranno al raddoppio dei ricavi agiremo per sburocratizzare l'iter autorizzativo degli impianti fotovoltaici ha commentato l'assessore Scocci Marro al termine della visita e stiamo facendo importanti investimenti anche nel settore idroelettrico obiettivo è sostenere la produzione locale permetteci al riparo dalle tempeste di mercato a concluso Scocci Marro che danneggiano le nostre industrie a vantaggio di concorrenti di altre aree geografiche il gruppo Sereni Orizzonti è la prima azienda italiana nel settore salute ospedali e servizi sanitari i risultati sono stati pubblicati da Repubblica nell'inserto Affari e Finanza il gruppo Sereni Orizzonti è la prima azienda italiana nel settore salute ospedali e servizi sanitari per la qualità dell'ambiente di lavoro è quanto emerge dallo studio dell'istituto tedesco Qualità e Finanza pubblicato dall'inserto Affari e Finanza di Repubblica un risultato quanto mai significativo per l'azienda specializzata nel settore della costruzione e gestione delle residenze per anziani dopo i due anni di pandemia appena trascorsi L'azienda è orgogliosa di aver vinto questo primato rispetto a tutti i pareri e giudizi rilasciati dai dipendenti nel web e questa ricerca di questo istituto tedesco ha raccolto tutti i pareri feedback dei dipendenti e noi siamo stati valutati al 100% rispetto al settore sanità servizi e ospedali Cercheremo di mantenere continuamente il rapporto sereno con i dipendenti all'interno delle strutture e quindi incitando a mantenere un ambiente di lavoro positivo propositivo che favorisca la crescita del dipendente sia sotto la forma professionale ma anche personale e questo va ad incidere positivamente nell'accoglienza poi degli ospiti delle nostre residenze in questo momento dopo due anni in cui c'era un'inversione di tendenza stiamo riscontrando un rientro nel settore privato rispetto al settore pubblico quindi ci sono molti dipendenti pubblici che stanno abbandonando il cosiddetto posto fisso per rientrare in un settore privato che è in forte crescita Caso Vazzila arriverà entro lunedì la sentenza del Tribunale del Lavoro di Trieste oggi si è svolta la seconda udienza il giudice potrebbe azzerare la procedura di licenziamento per 450 lavoratori tra venerdì e lunedì il giudice del Lavoro Ancora si pronuncerà sul ricorso presentato dalla FIO dalla FIM e dalla UIL e dalla Regione contro il gruppo Varsila per comportamento antisindacale da questa prima sentenza potrebbe dipendere il futuro di 450 lavoratori più altrettanti dell'indotto che potrebbero trovarsi per strada a fine dicembre e non più ottobre grazie alla norma antidelocalizzazione approvata dal governo in questi giorni ci aspettiamo lo stragio della procedura da questo punto di vista perché le nostre argomentazioni secondo noi sono validissime è chiaro che la decisione aspetta il giudice sentendo con questa discussione così lunga le controparti e ovviamente prenderà la sua decisione lo stragio significa obbligare Varsila a ripartire da zero con tutta la procedura e dunque se ne riparlerebbe tra quasi un anno con il relativo agravio dei costi e un'arma in più per lo Stato per difendere il sito produttivo di Dolina reindustrializzare quel sito qualcosa di diverso dai motori un'altra non lo sappiamo però quel sito deve essere assolutamente un sito industriale deve contenere tutti i numeri che è contenuto fino ad ora sia per quanto riguarda la parte dei diretti ma l'indotto molto importante intanto la OHL Fusion ha lasciato il porto di Trieste senza i 12 motori del gruppo d'EV acquistati da Varsila e simbolo della lotta degli operai la guerra è lunga ed è fatta anche di questi momenti come quello di oggi e quelli che ci saranno successivamente il nostro lavoro prosegue nella forte convinzione che qui si debba mantenere occupazione e industria allo stesso livello di prima e quindi con queste motivazioni noi andiamo avanti si è riunito nuovamente in presenza dopo la pandemia il congresso annuale della medicina generale delle cure primarie del Friuli Venezia Giulia appuntamento a grado nel ricordo dei camici bianchi parlati via dal Covid Antonino Cataldo 66 anni di Aviano è stato uno dei primi medici di medicina generale che in Friuli Venezia Giulia hanno perso la vita a causa del Covid prestando servizio per i suoi pazienti nel dicembre del 2020 la sua figura è stata ricordata questa mattina dalla vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi intervenuto a grado al congresso annuale della medicina generale delle cure primarie del Friuli Venezia Giulia organizzato dal centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie dell'azienda regionale di coordinamento per la salute il medico di medicina generale oggi affronta in questo congresso dopo due anni di congresso in videoconferenza temi importanti parla della medicina di genere parla delle certificazioni IMS si appresta a organizzare anche la nuova campagna vaccinale è un'alleanza importante tra la sanità pubblica e il sistema della medicina generale le cure primarie sono il primo passaggio determinante per un bisogno per le risposte ai bisogni di salute e noi oggi abbiamo affrontato questi temi e io ho colto l'occasione anche per ringraziare tutto l'intero sistema della medicina generale che è stato estremamente importante nel contenimento della pandemia e soprattutto nella campagna vaccinale che li ha visti i protagonisti per riuscire a dare risposte ad una domanda che è stata significativa e sulla quale sicuramente con caratteristiche diverse ci apprestiamo ad affrontare con le nuove tecnologie che sono state approvate prima dall'EMA e poi dall'AIFA ed è stato anche questo uno degli argomenti che la Direzione Centrale di Salute ha affrontato raccontando quelle che sono le indicazioni che ci arrivano direttamente al Ministro della Salute Uniti si può incontri e confronti tra realtà che si occupano della malattia di Alzheimer e il tema scelto per la manifestazione organizzata dall'Associazione Alzheimer di Udine in occasione della giornata internazionale dedicata alla patologia che si è svolta sotto la loggia di Leonello In Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia per il numero di persone anziane vivere di più significa adeguare il sistema a questi nuovi assetti demografici per dare una risposta adeguata e appropriata di salute lo ha detto l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi intervenendo a Udine all'iniziativa indete in occasione della giornata internazionale dell'Alzheimer dall'associazione dedicata a questa patologia il vice governatore ha anche sottolineato che il sistema sanitario regionale ha stretto un fortissimo legame con il terzo settore percorrendo la via della deospedalizzazione per le cronicità uniti si può incontri e confronti tra realtà che si occupano della malattia ad Alzheimer è stato il tema dell'incontro udinese sotto la loggia del Leonello questo convegno di quest'anno è stato proprio volutamente dedicato ai caregivers e ai familiari perché appunto è una figura sottovalutata una figura che va tutelata e hanno tanto tanto bisogno di aiuto perché le famiglie con i malati di Alzheimer vivono una realtà che a volte non si riesce neanche a immaginare ci sarebbe bisogno di più centri diurni perché a Udine ce n'è solo uno ed è privato anche se convenzionato col comune e poi appunto volontari che formati possano magari andare a dare una mano nelle case e dare un cambio agli familiari presentata oggi l'edizione 2022 di Gusti di Frontiera appuntamento a Gorizia da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre più di 300 gli stand 40 ai paesi rappresentati un indotto per le attività locali di 4 milioni di euro e per la sicurezza sono stati investiti 120 mila euro questi grandi eventi sono eventi che ormai è dimostrato da studi che abbiamo commissionato che hanno un moltiplicatore di ritorno molto importante quindi insomma sono degli investimenti di risorse pubbliche che portano delle ricadute importanti 4-4 milioni di euro che vanno a beneficio delle tante attività commerciali artigianali del territorio quindi insomma benvengano su 327 adesso oscilla il numero tra 327 e 340 espositori 40 nazioni presenti è un numero importante penso che ormai da tutti i 5 continenti il fatto che sia ancora più presente l'Africa ogni volta aggiungiamo una ciliegina sulla torta oggi mi è stato fatto osservare che più che la ciliegina la cioccolata sulla torta perché abbiamo introdotto anche la Svizzera sono numeri importanti voi avete pensato anche a un treno trasfrontaliero vogliamo effettivamente e ci crediamo iniziare quel percorso che ci porta a Gorizia 25 noi l'abbiamo iniziato da subito treno trasfrontaliero linea trasfrontaliera e trasporti dedicati che è l'inizio per Gorizia 2025 la Camera di Commercio sostiene l'iniziativa fin dall'origine perché è convinta che come ho detto in conferenza stampa è una manifestazione importante fondamentale fa conoscere Gorizia in tutto il nord Italia sicuramente nel nord est ed ha delle ricadute economiche come ha detto prima anche l'assessore regionale fondamentali il scopo della Camera ovviamente fa crescere l'economia del territorio e questo è uno di quei fari che portano Gorizia all'interno di tutto il nord est Dopo 96 anni torna in vita l'antica chiesa di Martignacco grazie al contributo di istituzioni imprenditori e gruppi pastorali che sono riusciti a trovare le risorse necessarie alla sua sistemazione per la solenne riapertura è prevista una settimana di appuntamenti a partire da domenica 25 settembre Sono trascorsi 96 anni da quando l'antica chiesa parrocchiale di Martignacco quella di Santa Maria Maggiore è stata chiusa la riapertura al culto della vecchia parrocchiale in programma dal 25 settembre propone diversi appuntamenti Il programma prevede un inizio solenne con il coro e l'orchestra del Friuli Venezia Giulia con questo grandissimo concerto d'apertura per poi proseguire nella sera successiva con la presentazione dei lavori gli scavi gli scavi archeologici il restauro della Madonnina del 1400 la presentazione anche degli affreschi della fine del 1200 per poi proseguire nelle ultime due giornate il sabato primo di ottobre con un momento particolare cioè l'intitolazione del parco giochi della nostra scuola materna parrocchiale a San Giovanni Paolo II e poi un pranzo di beneficenza sabato primo ottobre alle ore 13 poi il momento culmine atteso e preparato dalla settimana cioè il 2 ottobre alle ore 16 e 30 la domenica avremo Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo che benedirà la chiesa restaurata l'altare il tabernacolo e riconsegnerà questo gioiello alla comunità il restauro ha permesso una rilettura della storia dell'edificio e gli scavi archeologici hanno messo in luce una chiesa trecentesca c'è stata una risposta incredibile del mondo imprenditoriale che ha supportato anche questi ricchi eventi e allora va al grazie insomma tutta la comunità tutte le sue componenti e rende orgogliosi anche di poter amministrare un territorio del genere che è sensibile è pronto è disponibile e sono tutte qualità che insomma al giorno d'oggi fanno la differenza Siamo in chiusura subito dopo la pubblicità tutte le notizie sportive grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli Grazie a tutti